Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Soleil sorge anche dopo la fine del Grande Fratello continua ad essere al centro del gossip A far parlare il fatidico fidanzato misterioso. Soleil sorge Dopo esser stata una grande protagonista del Grande Fratello 6, nonostante non sia arrivata in finale, Soleil sorge continua ad essere in tv Dopo la fine del reality che l'ha vista chiusa nella casa più spiata d'Italia per sei mesi ora Soleil ha preso il via nel mondo dello spettacolo Giudice alla pupa e il secchione, questo il nuovo ruolo che è stato affidato a Soleil sorge al fianco di Federico Fashion Style e Antonella Elia Vedremo Soleil ogni martedì sera su Italia 1 nel programma di Barbata d'Urso Ma quello che continua a far scalpore è il presunto fidanzato che ha sempre nominato nella casa di Cinecittà che ancora non ha visto Soleil infatti ha sempre dichiarato di essere fidanzata fuori dalla casa Anche se nella casa ha creato un'amicizia speciale al GF VIP con l'attore Alex Benio, tanto da creare un triangolo amoroso di cui si è tanto parlato con l'attore e la moglie Delia Duran, che forse non è stato gradito dal misterioso fidanzato Il fidanzato di Soleil sorge non esiste? Soleil ha sempre detto di essere fidanzata, una frequentazione interrotta per l'ingresso al GF VIP L'influencer ha anche ammesso di aver sbagliato durante l'intervista da Silvia Toffanin, ho sbagliato e mi prendo le responsabilità Ha queste le parole rivolte al fidanzato Ma tutti si chiedono se esiste oppure no.Una cosa è certa Il misterioso fidanzato si chiama Carlo Domingo, ed è imprenditore siciliano lontano dal mondo dello spettacolo I due avevano fatto un patto prima che Soleil entrasse nella casa, qualsiasi cosa accada là dentro, sappi che io sarò con te e tu sarai con me Ma sarà ancora valido questo patto? Soleil sorge esiste il fidanzato? A far pensare che il fidanzato di Soleil non esista è sicuramente il fatto che i due non si sono visti dopo la fine del grande fratello Sarà il nuovo Marc Caltagirone della TV oppure sono solo scampati alle macchine fotografiche dei paparazzi? Ma pare che l'esistenza di Carlo sia certa poiché la scorsa estate sono stati visti insieme da un noto paparazzo, Andrea Franco Alaimo Soleil è fidanzata con un imprenditore siciliano, la scorsa estate era con lui Posso dirvi con certezza che esiste queste le parole che ha detto a Mattino 5 qualche tempo fa Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video